L'edizione numero 84 di Pitti Uomo scalda i motori e questa volta è proprio il caso di dirlo sia perché l'inaugurazione a Firenze cade nel giorno più caldo di questo incerto inizio d'estate sia soprattutto perché il tema guida sono le moto d'annata design in movimento che si riflette sugli articoli esposti nei 1043 stand dislocati per tutta la fiera dentro la fortezza da basso ma l'immagine dei motori racconta il presidente di Pitti Gaetano Marzotto porta con sé anche l'idea della velocità con cui il Made in Italy deve raggiungere i mercati emergenti Quello che noi dovremo portare è proprio il saper vivere oltre che al saper fare italiano Cosa vuol dire saper vivere? Vuol dire che noi dovremo riuscire oltre che alla moda portare anche la enogastronomia, portare anche la cultura italiana che è straordinaria e l'idea di puntare sull'estero non può che essere legata alla contrazione del mercato interno crollato del 5,7% nel 2012 rispetto all'anno precedente è anche per questo che tutti gli occhi dei retailers sono puntati sul nuovo governo e sul vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda Il provvedimento sull'Imu va nella direzione della domanda interna è importante, è fondamentale però attenzione, l'Italia si gioca la sua competitività sull'offerta cioè sulla capacità di diminuire il costo dei fattori della produzione che rendono le piccole e medie imprese soprattutto competitive non solo in Italia ma anche all'estero E allora diamolo uno sguardo all'offerta già sul piatto l'uomo di domani rifiuta il grigio e osa cromaticamente sia sulle camice che sulle scarpe che sulle cover dei telefonini insomma insoffitta i colori più vecchi e abusati ed ecco che il rinnovamento nello stile diventa occasione per Matteo Renzi per lanciare una frecciata a Silvio Berlusconi Sono uno di quelli che crede che Silvio Berlusconi abbia avuto la sua chance di cambiare l'Italia e non l'abbia sfruttato negli ultimi 20 anni quindi sono considerato il rottamatore del centro-sinistra ma posso garantire che voglio rottamare anche molta gente del centro-destra